Tornano in azione i ladri a Contrada a Borgonero, dove, come si ricorderà, la scorsa settimana i residenti avevano organizzato una protesta proprio per attirare l'attenzione di sindaco e forze dell'ordine sui tantissimi colpi messi a segno nella zona. Questa volta nel mirino è finita la casa di un 47enne di Benevento. Dopo aver forzato la porta di un ingresso secondaria, gli autori del raid sono entrati nella casa ed hanno messo tutto a soccuadro ed hanno portato via numerosi gioielli e 120 euro in contante. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti gli agenti della volante. Furti non solo in città, ma anche in Valle Caudina. A Sant'Agata dei Goti, nella frazione di Presta, nella notte, tra lunedì e martedì, doppio colpo messo a segno dai ladri. Il primo ai danni di una rivendita di tabacchi, malviventi si sono introdotti all'interno dell'attività commerciale portando via stecche di sigarette. A pochi metri poi, nelle stesse ore, è finita nel mirino dei ladri un'impresa che opera nel campo del Movimento Terra, portati via fusti di gasolio, due mezzi e l'auto del titolare, indagano i carabinieri.